Buongiorno amici, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. In realtà ieri non ho girato per il problema della macchinetta, ma stiamo risolvendo con tutta la cosa dell'assistenza eccetera. Quindi dovremmo in teoria riceverla venerdì. Quindi oggi vi vloggo col telefono anche perché vado a fare una cosa super interessante che vi interessa sempre un sacco come argomento. Quindi ho detto non posso mancarlo. Cioè il laser ai tatuaggi. Questa sarà la terza seduta. In realtà ho da fare anche alcune domande al dottore che poi mi seguirà il tutto perché me l'avete richiesto su Instagram. Quindi vedremo anche un po' che cosa ci risponde. Detto ciò colazioncina, questo l'ho preparato ieri sera come sempre. E qui c'è del lattuccio, ok. Poi mi pare di aver visto un cagnolino. Ah ma sei asci eh? Vuole fare signora? Si è appena svegliata, vuole uscire fuori? Prego, esca. Vado a fare pipì, dove corre? Che furba, guardate. Non ci posso chiedere. Poi tra l'altro l'altro giorno come avete visto sono andata dal coreano. Loro erano andate in questo posto a prendere gli album, no? Visto che voglio vedere se hanno una cosa e visto che tanto devo andare al centro per fare questa cosa del laser. Poi passo anche lì a Vittorio Emanuele, a questo negozio, quindi ve lo faccio vedere un pochino. Ovviamente sto andando a prendere la metro, c'è un bellissimo suori album, tra l'altro. Ogni volta che prendo la metro mi ricordo di quando andavo alle medie. Allora, credo il negozio sia questo, perché non ho l'insegna niente, però vedo una faccia di De Jong là dietro. Ciao. Ciao. Ho comprato qualcosa, arrivò al parchetto là e facciamolo un box. Ovviamente poi controllate su Vinted, perché se non mi è capitata nessuna di Jungkook che colleziono solo quelle, magari l'ho messo in vendita. Ho preso il Map of the Soul 1, il concerto, quello online, collezione Blu-ray, e ho preso anche uno dei primi album, adesso vi faccio vedere. Guardate che carino questo parchetto qua in mezzo, pieno di bimbi, di cani, di ragazzi. Andiamoci a mettere qui sotto il pergolato, no, si sono presi il mio posto, vorrei solo un po' di ombra. Ok, panchina trovata, non so come poggiarvi, quindi vi ho messo un attimo così, vediamo cosa tiriamo fuori. Allora, questo qui è l'album, l'ha pagato così. Ah, tre, due, uno. Gli occhi di me, non ci posso credere. E poi qui abbiamo i versi forti, perché ho preso questo qui in versione Blu-ray, che costa un botto, cioè costa un botto. Io ve lo dico perché magari se vi interessa, così lo trovate sul mio Vinted. Siete pronti? No, perché io no. Allora, qua sotto c'è il poster, tutte le cose, qua c'è il libricino con le foto. C'è la photocard. Ragazzi, ragazzi. Io non so veramente se è la fortuna del principiante, come si suol dire, però questa photocard, a parte che la rivendono a dei prezzi assurdi se la volete comprare da sola, è una delle più belle. Contate che questa è la strada che facevo in mattina per andare in acqua carina, scendevo lì con la metro, poi mi facevo tutta questa stradina a piedi, e infatti adesso voglio vedere se c'è ancora vero, il negozio è quello che fa tutte le cose organiche, bio, eccetera, che magari mi prendo uno smoothie. Ragazzi, questi giorni fa caldissimo. Qui c'è ancora un po' lì. Mi sa che prendo una centrifuga. Sono arrivata allo studio, che è qui dentro, eccolo qui, scala a destra, secondo piano. Facciamole a piedi che male non ci fa. Sono arrivata nello studio, tra l'altro è tutto nuovo, è bellissimo. Qui abbiamo anche il dottore. Si ripresenti che qua è un'altra cosa. Ciao, ciao, sono Alessia Campardella, sono uno specialista dermatologo e lavoro tra Napoli e Roma. Perfetto, adesso mi avete fatto un po' di domande su Instagram la scorsa volta, quindi rispondiamo a qualcuna di quelle più interessanti. La prima è l'effetto popcorn, perché mi vedono sempre che vengo e magari non vedono quel solito effetto che girano tanti video che subito scompare e dicono perché non funziona. Quindi adesso ci spiegherà perché. Allora, quando si hanno dei tatuaggi molto grandi, molto estesi, carichi di colore, di solito, soprattutto quando si comincia per la prima volta a trattare quel tatuaggio, si parte da potenza intermedia, anche perché bisogna capire, uno, come risponde il tatuaggio. Se voi usate potenze molto alte, letteralmente la pelle si spacca nel momento in cui tu usi la macchina e questo rischia di aumentare la probabilità di fare cicatrici, per cui noi non vogliamo questo. inoltre anche perché poi c'è il rischio che nei giorni immediatamente successivi alla seduta ci sia una forte infiammazione, un arrossamento, un bruciore, quindi per evitare di terrorizzare il paziente. No, esatto, infatti io non ho mai avuto di questi problemi. Esatto, oggi invece vedrai. Ah, per favore. Bisognerà partire da potenza intermedia. Ok, quindi quell'effetto popcorn che vedono di solito che rende il tatuaggio tutto bianco non vuol dire che stia facendo più effetto. E poi mi avete chiesto la questione cicatrici. Se poi una volta rimosso rimane la pelle, penso non torni mai totalmente... In realtà non è proprio così. Dipende, sempre dipende. Ok, quindi ci spiegherà la questione cicatrici. Cosa rimane dopo? Sì, praticamente con i vecchi laser per la rimozione dei tatuaggi, che purtroppo non avevano la selettività di quelli di nuova generazione. Perché questo è il pico, giusto? Questo è il pico. E cosa succedeva? Succedeva che nel cercare di togliere il tatuaggio si aumentavano tanto le potenze e alla fine quella selettività era un po' persa, per cui oltre a danneggiare il tatuaggio si dannoggiava anche la pelle e quindi si creavano quelle possibili cicatrici. Il pico invece è molto selettivo, per cui limita al minimo il danno della pelle e concentra tutta l'energia sul pigmento esogeno, cioè sul tatuaggio. Inoltre va detto anche che spesso la cicatrice è già presente, perché quando tu vuoi fare semplicemente il tatuaggio... Certo, quella è una cicatrice, ovvio. E quindi se tu senti il tatuaggio sotto pelle, cioè lo senti rilevato, palpabile, quella è già una pelle cicatriziale. Ok. E però per noi non è un problema, perché noi utilizziamo un altro laser associato, che è il cosiddetto frazionato, che serve a livellare la pelle. Livellando la pelle tu togli quella componente cicatriziale. Gli altri elementi di cui devi tenere conto sono le alterazioni del colorito, cioè le macchie scure e le macchie chiare post seduta. La macchia scura si fa principalmente se tu non ti proteggi bene dal sole, come fai in un stione superficiale col tatuaggio, se subito dopo ti esponi al sole rischi di fare la macchia. Ma è un po' come se qualcuno, non so, fa una ceretta e dopo va a mare, cioè dice che dopo fa la macchia. Infatti è consigliato non farlo proprio nel periodo estivo, evitate proprio. Esattamente, in estate non lo rifacciamo e se stiamo nel periodo vicino comunque all'estate protezione solare per almeno un mese. Altro rischio invece è l'alone chiaro. L'alone chiaro si può formare soprattutto se tu vai a fare questa rimozione su persone che hanno una pelle molto scura. Ok, perché mi hanno chiesto effettivamente anche questo, se si può fare anche su pelle scura, nera. Allora diciamo che se sei abbronzato, no. Infatti di solito il seguito del post estate è sconsigliato. Il laser funziona bene quando c'è il contrasto tra pelle chiara e pigmento scuro, perché è proprio il contrasto che viene catturato bene. Mentre invece diciamo che se tu hai una pelle molto scura, un prototipo molto elevato, il rischio è che si perde quella selettività. Quindi se perdi la selettività ovviamente questa ipopigmentazione, cioè questa area più chiara, può poi persistere. Per cui diciamo che se hai una carnagione molto scura bisogna sempre valutare caso per caso. se sei abbronzato bisogna aspettare che va via la prezzatura. Quindi più o meno questo era. Se poi avete altre domande ovviamente scrivete tutto che nelle prossime sedute rispondiamo. Iniziamo. Sono pronta. Stavolta quindi si sente di più. Ma stavolta ci sentiremo. Perché io ho una soglia del dolore altissima, non mi sono mai lamentata di niente. Ottimo. Però... Oggi testeremo la tua soglia del dolore. Ecco, perfetto. Ok, mi stava dicendo che il macchinario dovrebbe essere più potente, quindi che cosa cambia effettivamente? Beh, sicuramente usiamo le potenze. Ok. E' stato anche un piccolo upgrade, per cui adesso il macchinario è leggermente leggermente più cattivello. Tanto abbiamo messo gli occhialini. Cominciamo questo? Sì. Pronta? Ahah. Vabbè, sì, è un po' più forte, però ancora sto bene. Pensateci sempre bene, tatua. Quindi adesso è a sette? Sì, è sette. E qui abbiamo anche detto frost, vedi? Perché si è sbiancato il tatuaggio. E si è gonfiata la pelle, io mi gonfio tantissimo. Ora la luna? In teoria sono tutti questi qua sulle dita. Sì, tutti i puntini questi qua. Questi fanno male. Però sono piccoli. Perché questo scoppio è tale. Oddio. Allora, adesso stiamo facendo una medicazione. Questa che cos'è? Una cremina? Questa è una cremina riparatrice, proprio post trattamento, quindi post laser. Poi dopo tu tornerai a casa, dovrai disinfettare con acqua borica, mattina e sera per circa 6-7 giorni. Ok, e poi la crema quella... Crema antibiotica la mattina e crema riparativa la sera. Come questa volta. Non vedo il gentlelino. Esatto, senza corzione, perché il corzione ci ritarda la guarigione. E poi una cremina riparativa la sera, perché adesso abbiamo fatto una bella seduta, quindi dovremmo riparare abbastanza la pelle, perché ovviamente si potranno fare crosticine, bollicine, eccetera, eccetera. Nel caso in cui si fanno bolle d'acqua, vanno rotte con un aghetto sterile e basta. Aiuto, allora, sono appena rientrata in macchina. Ho qua tutti gli pezzi che mi stanno staccando, che mi ha cercato di coprire un po'. Praticamente mi sono fatta tutto il viaggio di ritorno col guanto qua, perché ovviamente come fai? Era l'unico modo per prendere tutto, quindi sono tutta fasciata, dopo vi faccio vedere. Stavolta ha effettivamente bruciato di più, come aveva detto, però speriamo che faccia anche più effetto, perché mi ha alzato tanto il voltaggio. E tra l'altro, già su Instagram mi stanno arrivando le domande, ma perché decido di toglierne? Sono alcuni? Allora, alcuni perché non mi piaceva come erano venuti, alcuni si erano rovinati, alcuni perché voglio rifarci altre cose sopra, però sì, ecco, tornassi indietro ovviamente ci penserei meglio. Nel mentre ho già venduto uno degli album, alla fine credo che metterò anche il Mappold So One su Vinted, quindi se vi interessa e magari è ancora disponibile, non lo so, andate a dare un occhio. Comunque, fatto sta che devo andare a ritirare un po' di pacchetti e in realtà è tardi, sarebbe ora di pranzo, anzi sono quasi le tre, però vabbè prima mi sono presa il centrifugo, quindi posso tirare avanti ancora un pochino, vado a prendere queste cose, torno a casa, poi devo fare una marea di cose. Tra l'altro PS mi si è bruciata con il laser, perché stupidamente non ci ho neanche pensato la fotocamera dell'iPhone. Adesso vi faccio vedere una clip, se vi giro con la fotocamera o con l'esterno, e quindi ho dovuto anche prendere l'appuntamento per domani da Apple Store, sperando che mi risolvano il tutto. Io non ho più parole. Guardate, sul nero si vede bene, la vedete? Questa macchietta verde, queste cose qua verdi. Se vi fanno senso sangue, bolle, cose, schippate la prossima parte, perché vi devo dare un aggiornamento, visto che ho tolto appena da sotte le bende. Se fosse una persona ipocondriaca sarei svenuta, probabilmente. Allora, diciamo che di qua la situazione è abbastanza tranquilla e controllabile, nel senso ho due bollicine qui sopra, qui un po' rosso, però in teoria, insomma, neanche di fastidioso. La scritta, questa qui, è tutta rossa, però non ci sono particolari bolle d'acqua. Il problema sorge in quelli colorati. Vi giuro, mi è preso un colpo. E anche nella parte più interna, dove ovviamente è più sensibile, infatti, cioè, adesso vi faccio vedere quanto si è gonfiata. Questo è il livello di gonfiore, guardate, normale, gonfio. Vedete, qui è un po' più, sì, delicata la zona, infatti adesso devo andare a lavare, incremare, tutto. Ma mi ha preoccupata, appunto, qui. Guardate le bolle, poi fanno sensissimo da toccare. E guardate quanto sono in rilievo, cioè, non so se si notano. Me l'aveva detto. Stavolta sarebbe stato molto più aggressivo il trattamento, proprio perché di volta in volta ti va, ovviamente, ad alzare. Mi ha detto che in teoria queste vanno scoppiate.